Ma certamente sì, l'attesa è un'attesa positiva, se è vero come è vero che il primo bando è stato un bando di successo, certamente il secondo bando ci darà dei risultati ancora migliori. Noi posso dire che per quel che riguarda l'attenzione che abbiamo ricevuto in questo ultimo periodo, direi negli ultimi due mesi a difesa dei servizi per manifestazioni di interesse, abbiamo già ricevuto 150 richieste di informazione che ci fanno essere, come direi, ottimisti sul futuro.